Angela Cancelleri, mamma di Giancarlo, sono ore di grande trepidazione per suo figlio ma anche per lei signora? Sì, veramente non so neanche spiegare l'emozione che provo, una gioia che mi sembra che il cuore mi scoppia e penso anche a lui, quello che va incontro e speriamo veramente che possa riuscire come lui nelle cose che ha fatto sempre è stato capabile e riesce sempre in tutto, io glielo auguro con tutto il cuore. Per un cambiamento della Sicilia e anche per la vostra famiglia? No, per la famiglia no, maggiormente per la Sicilia perché questa Sicilia ha bisogno di essere veramente cambiata specialmente per i giovani perché già noi la nostra vita è in discesa. Grazie.